Tecnorete, agenzie immobiliari in franchising del gruppo Tecnocasa. Stabiliremo, ho voluto fortemente questa riunione perché non voglio trovarmi nelle condizioni dove rimettere in un futuro, rifare una ordinanza per la non potabilità dell'acqua. E quindi ho chiesto al prefetto, se mi aiutava, sempre disponibilissimo, a fare questa riunione per stabilire un protocollo insieme alla Sorical e all'ASP, è la stessa ARPACA, un protocollo che permetta, una volta che le analisi magari segnalano un pericolo, far intervenire Sorical nell'immediato perché ha degli strumenti elettronici che gli permettono ormai di intervenire nell'immediato e ripetere l'analisi a distanza di 12 ore, in maniera tale che prima di emettere un'ordinanza dovremmo essere sicuri che magari il problema tecnico non si può risolvere, ma non emettere un'ordinanza perché ci sono dei batteri all'interno di queste analisi che sono state fatte e solo per pochi batteri magari si fa un'ordinanza come quella che ha creato dei problemi perché poi sabato e domenica non si potevano, l'ARPACA che era tra parentesi chiusa, noi abbiamo messo l'ordinanza di chiusura così come ci state chieste all'ASP venerdì e quindi siamo rimasti tre giorni con la non potabilità dell'acqua, quindi questo non deve più accadere.